Io sono Vanda Belluzzi della società Cometa, che è un distributore italiano, un medio-piccolo distributore. Ci occupiamo di varie attività, non facciamo il semplice distributore, ma bensì facciamo anche una parte di assistenza sulle macchine. È per questo che abbiamo conosciuto Sanfor, la parte del software dell'iperconvergente. È la prima volta che vengo qui al summit di Sanfor. È la prima volta anche che vengo in Cina. Mi è piaciuto molto la partecipazione di tanta gente, non credevo che ci fosse tanta gente. La parte che riguarda la parte del software è quella che mi interessa di più a me e quella che mi ha interessato di più. Abbiamo iniziato anche ad acquistare i firewall, che speriamo di vendere anche quelli. E comunque io ci credo molto nel software e quindi spero nel 2019 di venderne, abbiamo già iniziato, ma di venderne molti di più. Spero che ancora saranno ancora meglio le vendite per il software, sicuramente. Anche perché noi cerchiamo di adattarlo su vari brand di server, Fujitsu, Lenovo ed HP. E quindi pensiamo di fare più successo in questo mondo.